Tribunno Sonera, amiche amici del Marietto, buon sabato 22 di maggio a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Innanzitutto voglio dirvi grazie, grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla live bellissima di ieri sera ma anche dell'altra sera. In due sere ho avuto come ospite Massimo Baldoni l'altra sera di calciomercato.com con Gentil Consorte e ieri invece ha avuto l'artista Nero Luce che ha anche promozionato, promozionato si dice promosso, è che ragazzi tra spagnolo e italiano ormai non ci capisco più, promozionare quindi ha promosso il suo lavoro da artista, da cantante, quindi vi invito a entrare nel suo canale Nero Luce, mi raccomando. Poi oggi giornata, anzi è l'ultima giornata con pronostici che vi dirò chiaramente a fine video ma voglio preannunciare che stasera ci sarà una live di youtubers e tifosi milanisti. Saremo tanti stasera in live, alle 23.15 ci saranno youtuber che sicuramente qualcuno di voi li conoscerà, quindi io vi aspetto per la super live, noi ci crediamo. E perché così deve essere? Perché mancano poco più di 24 ore al match dei match Atalanta-Milan. E poi entreremo anche un po' più nello specifico proprio stasera in questo match, in questo momento vi do diciamo delle news, breaking news veloci che poi approfondiremo in serata e domani l'appuntamento che in queste ultime cinque settimane è stato fatto delle cinque giornate di Milano, manca l'ultima che è la quinta e non si farà questa sera come consueto il giorno prima della partita ma udite udite la farò in diretta domani nel primo pomeriggio, i maggiori dettagli ve li darò questa sera in live. Quindi iniziamo subito con questo breve video che cercherò di essere abbastanza sintetico perché ci sono notizie interessanti ma che poi verranno sicuramente approfondite questa sera in live. Inter Eder attacca Suning, in Cina non siamo stati pagati. Ebbene sì, l'ex attaccante dell'Inter è Yang Su, si sfoga su Twitter contro Suning per non aver pagato gli stipendi quando giocava in Cina. Infatti in un post che ha scritto in un Twitter, un Pio Pio, scrive spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FSE e spero che all'Inter non succeda come a noi, visto che la proprietà dei club è la stessa, che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre il club non ci ha pagato otto mensilità intere e le tasse su quelle precedenti. Vabbè, vi lascio. Sono ancora in vena canterina da ieri, visto che ieri ho fatto anche il duetto, andatevola a vedere veramente la live ieri sera, è stata bellissima perché c'è stata musica o anche canticchiato qualcosa. Vi invito ad andare a vedere. Striscione dei tifosi del Bologna questa settimana ormai sono proprio impazzati, vogliono a tutti i costi sfrenare l'avanzata della Juve in Champions League e infatti oggi fuori dal Casteldebole dove comunque c'è come il Milanello del Bologna, uno striscione dove ce l'ha scritto sbranateli, cioè proprio gli danno forza. Però attenzione che il signor Miailovic rilascia nella conferenza stampa prima del Bologna-Juve di domani una frase che lascia un po' perplessi e dice ho sognato un rigore sullo 0-0. Il problema è che questo rigore è per la Juve, dice che lo tirava di bala, però non sa poi come andò a finire, non sa se entra, non sa se esce, in ogni caso lui dice e chissà che cosa vorrà dire. Ricordiamoci che dopo che ormai il Nostradamus, Miailovic, ha anche indovinato chi fossero stati gli arbitri, beh un po' scontata come cosa perché me lo potevo immaginare, di Bologna-Juve, Giacomelli, Alvar e Valeri in campo. Perfetto, non dico nient'altro, domani penso che avremo tanto da dire nel post partita, sperando però con il sorriso a 270 denti, cioè me li metto pure con una nostra vittoria. Poi il signor nostro padre Piori oggi ha avuto la sua conferenza stampa, non sto lì a dire quello che ha detto e non ha detto, tanto basta che vi mettete YouTube, la trovate intera, quindi non è che devo stare lì adesso a ripetere, però dice più no che sì. Uno dice che sì? Più no che sì? No, no che sì, Fran, che sì. Più no che sì, ossia è più no che sì. Ripetendo la terza volta. Cioè stiamo parlando di Ante-Revich, dice bene sì, Ante-Revich domani 90% non sarà della partita, perché le condizioni fisiche del giocatore sono abbastanza problematiche, visto che ha un forte problema al polpaccio. Stamattina non ha fatto neanche la seduta completa, non si sa se verrà convocato per domani e quindi adesso si fa sempre più preponderante il nome di Mario Mandzukic davanti. Prima probabilmente con Leao, probabilmente sarà l'inizio con Leao, per poi arrivare appunto al Mariolone, che magari può essere la volta buona, che timbra il gol Champions League e tutti felici e contenti, però lui chiaramente se ne andrà ugualmente. Così come se ne potrebbe andare anche il portiere, con qua chiudiamo con queste ultime, con quest'ultima notizia, il Milan dice fermiamo questa follia e a chi si riferisce chiaramente alle super commissioni che vuole Raiola. Il giornalista sportivo Riccardo Cucchi, che immagino tutti conosciate, ha espresso tutta la sua contrarietà e alla presunta esagerata richiesta di Raiola in caso di rinnovo di Gigi Donnarumma per il Milan. Infatti in un suo tweet, ormai vanno tutti tweetando, dice 20 milioni per l'accordo su Donnarumma, se la notizia è vera allora è giusto, è giunto il momento di porre un freno a queste follie, ci vogliono regole nuove. E poi mette hashtag Raiola. Ebbene sì, perché sembra che il procuratore che noi tutti conosciamo, l'amatissimo Mino Raiola, praticamente avrebbe chiesto una commissione vicina ai 20 milioni per far rinnovare Gigi Donnarumma. A uno, all'altro. Andate dove volete. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando veramente. Se fosse vero, ma pedate nel culo, uno e l'altro, non li voglio più vedere a Milanello. E soprattutto tutti i colori che sono sotto la procura di sto qua, al Milan. Nessuno, tutti fuori. Romagnoli, fuori. Ibra ormai perché è l'ultimo anno ha firmato, ma poi tutti fuori dalle balle, tutti fuori dalle balle. Altro che De Paul. De Paul è un altro che è sotto quello. Mkhitaryan è un altro che è sotto Raiola. Io non voglio nessuno di Raiola, avete capito? Sì o no? Oh là! Concludiamo, ragazzi, con quest'ultimo pronostico e scommesse. Allora, l'ho fatto facile per cercare di vincere anche l'ultima settimana. L'altra settimana avevamo beccato 8 su 10. Ormai ho la media, ho fatto tutte queste ultime 7 settimane, la media dell'87% di vittorie. Cioè, quindi, cosa vi devo dire? Cioè, da 7 in su, praticamente, su 10 sono soldi che prendete. Però dovete giocarle, come già vi ho detto, a 3-4 divise, perché tutte insieme è difficile poi prendere tutte e 10. In ogni caso, vi dico un po', iniziamo dal basso. Quindi, dalla bassa classifica, Torino-Benevento. Io ho messo un più 0-5. Più 0-5, un gol, probabilmente lo faranno. È una partita, probabilmente, tipo scapoli ammogliati. Il Torino è salvo, il Benevento appena retrocesso. Bisogna vedere con quali stimoli si affronteranno questa partita. Comunque, più di un gol non credo che... cioè, minimo un gol, però, 1-2 gol, non credo che saranno tanti. Quindi, più 0-5. Cagliari-Geno ha messo gol. Cioè, vuol dire che, secondo me, queste due squadre segneranno tutte e due. Così come Crotone-Fiorentina. Sampdoria-Parma, 1-2 ho messo. Attenzione che questa potrebbe essere la partita sorpresa. Provate a mettere il 2. Io ho anche sognato un risultato secco. 2-0 per il Parma. Non lo so. La lancio lì. Spezia-Roma x2. Sassuolo-Lazio 1-x. Poi Bologna-Juve e Napoli-Verona ho messo handicap 3-5. Che vuol dire che tanto la Juve che il Napoli, per perdere questa bolletta, devono vincere con almeno 4 gol. Se se ne fanno meno di 4 di distanza, cioè vuol dire, se finisce per esempio 3-0, 2-0, 1-0, ma anche 4-1, così praticamente la bolletta si prende. Quindi, Napoli-Verona più Verona più 3-5. Bologna più 3-5. In caso che pareggino o vincano le avversari, quindi vinca il Verona o vinca il Bologna, che vinca il Bologna, magari! Ho visto già le quote te lo pagherà 10-50. Figuriamoci. Cioè, se volete buttarci 10 euro sulla vittoria del Bologna, mai mai vincevi, fate 100 euro così. Però, più 3-5. Poi, per concludere, Inter-Atalanta e Inter-Atalanta. Inter-Udinese ho messo un più 2-5. Secondo me ci possono essere 3 gol. Inter potrebbe chiudere in bellezza, anche perché poi ci sarà la festa a Scudetto. E infine, Atalanta-Milan più 1-5. Cioè, almeno in questa partita ci saranno 2 gol. Chiaramente io non dico il risultato e il pronostico finale di questa partita. In ogni caso, io, se volete, vi posso dare anche una sventagliata. Togliendo sempre Atalanta-Milan, non do il pronostico, vi do una serie di risultati che, se li volete giocare, fare una bolletta a parte. Inter-Udinese 1, Sassuolo-Lazio 1, Torino-Benevento 1, Cagliari-Genoa 1, Napoli-Verona 1x e Bologna-Juve 1-2. Però potete anche cambiarlo a x2 se volete. Spezia-Roma x2, San Doria-Parma 1-2, però non so perché, sento il 2 del Parma. Crotono-Fiorentina x2 e poi basta. Non ce ne sono altri, perché Atalanta-Milan, come ho già detto, la lascio on the air. Ragazzi, grazie ancora per avermi sentito e ascoltato qui fino al finale di questo video. Vi aspetto alle 23.15 con tanti ospiti. Stasera sarà una live piena di ospiti, tutti milanisti, tra youtubers e tifosi. Quindi davvero, davvero, ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere. Mandiamo questa grinta. Domani mattia alle 9.30 ci sarà anche la Curva Sud a Milanello per accompagnare il Pullman subito fuori dal centro sportivo e noi, con il cuore, con l'anima, con la testa, con tutta la nostra energia, saremo lì con i ragazzi. Dobbiamo andare in Champions League, perché ce lo meritiamo. 37 partite, siamo sempre stati là. Quindi facciamo fuori il marcio dell'Italia, che è i coloni sbiaditi di Torino. Ci vediamo più tardi, ragazzi, in live, bel pollicione in su, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto con campanella inattiva, abbonamenti qui in basso ce n'è per tutti i gusti, da 1 euro al mese a 25, mi raccomando, così mi date l'opportunità di crescere sempre di più e far sempre più live e dar contenuti sempre più belli, che a voi piacciono. E dal tuo marietto milanista, sempre col mio cuore rosso-nero, Forza Milan, ovunque e comunque, e noi ci vediamo dopo in live. Ciao!